Mi sono iscritta subito dopo essermi laureata perché la struttura part-time del Master mi ha consentito sia di intraprendere l'attività lavorativa che di dedicare due giorni alla settimana ad un focus sul mondo del diritto tributario. Il valore aggiunto del Master, dal mio punto di vista, è dato dall'apprendimento non solo di concetti nozionistici, ma anche di casi pratici attraverso esempi ed esercitazioni. Nel corso delle lezioni, infatti, intervengono non solo professori, ma anche professionisti altamente qualificati, in grado quindi di offrire soluzioni a casi concreti che si incontrano durante la vita professionale. Ora sono un dottore commercialista, mi occupo di consulenza tributaria internazionale, in particolare di IVA per le società estere, e posso dire con certezza che il Master mi ha offerto tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio la vita professionale di ogni giorno. Grazie a tutti.